eccolo la che controlla tutto cioè non è che chiude la macchina e se ne va continua a controllare guardalo siamo anche arrivati dopo chissà da quanto tempo è la controlla tutte le porte cosa sta controllando ancora il portellone dietro e ricontrolla di nuovo le porte magari prima si è sbagliato guarda dentro si giusto di nuovo le porte ancora il portellone è ancora il portellone vediamo io questo metto su youtube guarda dentro nel vetro e poi quando torni indietro ah giusto e aspetta in pausa controlla di nuovo ma basta è chiudo con la macchina di merda chi la vuole porca puttana ancora c'è siamo anche appena arrivati in classe da quanto tempo era lista ancora guardalo cosa fa cosa fa ah se ne può andare aspetta che forse torna indietro lo vedi si torna indietro aspetta forse si si probabilmente si è calmato basta così dai eccolo la guarda è là in mezzo si basta dai al massimo questo pesettino qua lo taglio se te riprendiamolo meglio signora eccolo la guardiamolo bene in faccia chi è è un cicciolo l'uomo della picasso è misterioso già non si sa perché vabbè pensa te è è Grazie a tutti.